Sei pronta? Si C'è! Nome e cognome Nel di ruso Un soprannome Smilza Quanti anni hai? Otto Che classe fai? Seconda Cioè seconda Però dovrei fare la terza L'anno prossimo? Si La materia che ti piace di più? Arte La materia che ti piace meno? Il tagliano Il tuo animale preferito? Gatto Il tuo colore preferito? Rosa Non si vede Il tuo cibo preferito? Lasagne Che sport fai? Ginnastica artistica Da quanti anni? 3 o 4 3 o 4 3 o 4 Sì C'è Credo 5 C'è 3 anni o 4 anni che lo fai? Secondo me 4 No secondo me 5 Ah credo 4 Sì 4 Quante ore ti alleni? Tutta la giornata No Quando vai a scuola? 3 ore Al giorno? Sì E adesso? Tutta la giornata Qual è il tuo attrezzo preferito? Corpo libero E quello che ti piace meno? Trave L'elemento più difficile che sai fare Scegli tu a che attrezzo Apriamo il flick sulla terra senza tappeto Vabbè flick Sì A corpo libero Un attrezzo Poi accenderti La scioletta In verticale La parallele Giro di tanto pennello E basta Come ti senti quando fai le gare? Terribile Eh? Cos'hai detto? Terribile Ah terribile Ti senti male? Sì E hai dei porta fortuna? No Niente? Chi viene con te a le gare? Chi ti accompagna? Eh Papà Come ti senti in palestra Quando non ti viene qualcosa? Male Cosa fai? Ti arrabbi o riprovi riprovi riprovi? Riprovi 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 Però dopo non ti Lo stesso Ok Qual è il tuo rapporto con la Chiara? Andate d'accordo? Non andate d'accordo? Sì andiamo d'accordo Sì? Non ti sgrida mai? Sì mi sgrida alcune volte Quando? Però poche Quando è che ti sgrida? Cos'è che la fa arrabbiare? Cioè quando Io faccio una cosa Ad esempio A braccia piegate Lei me lo dice mille volte Dopo si arrabbia Ok Giustamente Qual è il tuo pregio? Studiare Che sei studiosa? Sono studiosa Ok E un difetto? Una cosa brutta? Che sono permalosa Molto? Sì Cos'è che ti fa arrabbiare? Ti fa diventare permalosa? Quando mi dicono bugie Ah Fai un saluto matto? Saluta Ciao Ciao Ciao